Dopo la presa di posizione alla lettera congiunta dei sindaci di Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Todi, anche l'Ordine degli Avvocati di Perugia interviene in merito alla possibilità di riapertura delle sedi distaccate del Tribunale del Capoluogo Umbro, su cui ha lavoro la Commissione Giustizia del Senato, sedi che furono chiuse nel 2012 con il governo Mario Monti a causa della Spending Review. Per l'Ordine significherebbe mettere riparo a ciò che è stata fatta un'ingiustizia nel 2012. Mettere riparo perché nel 2012 a tavolino qualcuno ha pensato di chiudere dei tribunali, ha pensato di chiudere le sezioni distaccate di alcuni tribunali, ha pensato di allontanare il servizio giustizia dai cittadini e dai territori, ha pensato anche che in questo modo la giustizia, soprattutto quella civile, potesse trovarne un beneficio. I fatti hanno dimostrato a distanza di 11-12 anni che così non è stato. Per l'Ordine degli Avvocati di Perugia la soppressione delle sedi distaccate del Tribunale fu un errore, che costrinse e costringe ancora oggi a importanti spostamenti e aumento dei costi, non solo per i cittadini ma anche per gli operatori di giustizia. Dare seguito alla possibilità di riattivare le sedi distaccate significa dunque garantire una giustizia di prossimità per i cittadini e sostenere l'economia che ruota attorno alle sedi giudiziarie, ridare anche vivacità ai centri cittadini. Il problema è quello di riavvicinare il servizio giustizia ai cittadini, agli utenti, a chi effettivamente quel servizio vi ricorre e ne beneficia e facendo sì che non sia soltanto un qualcosa di distante. Questo ha comportato anche l'aumento, a mio avviso, di un distacco da parte delle persone rispetto allo stesso servizio giustizia, rispetto agli stessi magistrati che questo servizio giustizia rendono con i loro provvedimenti. Insomma, è come se un qualcosa li avesse allontanati dal cittadino, ma questo comporta anche un allontanamento della stessa credibilità del servizio e una restituzione di un qualcosa che le comunità debbono avere, qualcosa che le è stato tolto e che bisogna restituire.